ma salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di quel taleale eccoci qui finalmente oggi signori con il video della postazione come avete potuto vedere il progettino era in ballo da un po di tempo in una postazione di guida è spettacolare uno immaginate con tre sono passati circa due anni un trasloco due bimbe e tante altre cose ma oggi forse ce la stiamo per fare perché la postazione è arrivata anche qui nelle fasi finali abbiamo avuto un po di problematiche perché l'avevo ordinata a maggio doveva arrivare in poco tempo non è vero in realtà è arrivata con due mesi di ritardo ma forse ci abbiamo tutti i pezzi dico forse perché come potete notare lì dietro ci sono gli scatoloni e sono veramente tanti quindi adesso andremo a spacchettarli montarli ci vorrà anche un bel po di tempo perché sono tutti pezzettetti tipo lego tipo lego vi farò un timelapse poi l'andremo a vedere completa e mi raccomando voi fatemi sapere la vostra se vi intrigano questi video perché a riguardo della postazione comunque avrei già in mente di fare comunque pian piano saranno fatte delle aggiunte qualcosina la andrò a fare nell'arco dei mesi del tempo poi magari farò anche un video più approfondito dopo qualche ora di utilizzo ma ora bando alle ciance signori andiamola a montare perché ci vorrà una vita bene allora spacchettato tutto al momento la situazione è questa che come potete notare non è propriamente il top visto che ci sono mille milla pezzi devo ancora spacchettare vabbè qua c'è il sedile ma quello lo smontiamo per ultimo e come potete notare ci sono una marea di profilati in alluminio purtroppo non mi sembra di aver notato particolari indicazioni sugli scatoloni sarebbe stato comodo avere magari una volta aperto lo scatolone il numero di composizione perché nelle istruzioni non viene indicato quale scatolone e anche gli scatoloni non sono propriamente numerati per bene quindi è un po a caso qui ecco l'unico pezzo che ho riconosciuto è questo qui questo profilato che fa parte della dello stand dei monitor l'ho riconosciuto per il semplice fatto che c'erano già dei bulloni montati questo perché dopo tutti questi mille mila rimandi mancava ancora le gambe dello stand per i monitor e mi hanno detto che gli unici disponibili avevano già approvati potevano mandarmi quelli oppure un altro tipo di stand però siccome avevo optato per il tipo di stand che volevo io ho detto vabbè mandatemi anche questi usati perché insomma non ce la facevo più signori onestamente dopo due mesi di ritardi anche no comunque niente proviamo a montare con enorme disappunto sto constatando che in realtà non è vero che erano arrivati tutti i pacchi mi avevano detto che tutti quelli che sarebbero arrivati erano tutti ma non è vero perché mancano dei pezzi quindi adesso la mia situazione nello studio è questa e sono impossibilitato ad andare avanti nel montare questa maledetta postazione ci aggiorniamo tra per voi pochi secondi per me spero poco e non altre settimane mesi giorni bene ragazzi siamo al giorno 2 come detto non mi tornavano i conti li ho contattati per sapere un attimino se c'erano dei problemi erano convinti in realtà che fosse arrivato tutto quindi ho fatto le foto di tutti i pacchi con tutti i seriali e finalmente si sono accorti e resi conto che mancano altri due pacchi mentre uno è arrivato doppio quindi una parte che era dei piedi del dello stand gliela devo rispedire e quindi niente mancano due pacchi quindi non si può andare avanti con il montaggio della postazione però apparentemente ci dovrebbero essere tutti i pacchi necessari per montare lo stand per gli schermi quindi anche per togliere un pochino di caos qui dalla stanza e iniziamo a montare quello aggiornamento siamo alla settimana successiva e sono arrivati gli altri due pacchi mancanti quindi in linea molto teorica adesso dovremmo avere tutto quanto nel mentre ho sistemato la prima il primo stand per il primo schermo poi continueremo con gli altri devo fare delle regolazioni per far sì che arrivassero questi due pacchi praticamente ho dovuto fotografare tutti i pacchi che erano arrivati con tutti i codici per far capire che effettivamente due ne mancavano se ne sono accorti e me li hanno mandati non so perché non ne avessero traccia invece un altro era doppio quindi ho dovuto rimandare comunque comunque adesso si spera che ci sia tutto quanto piccolo appunto magari adesso vi faccio vedere un pochino il sistema a grandi linee di aggancio e di montaggio della postazione allora di base noi praticamente abbiamo questi profilati di alluminio fatti in questo modo che hanno questo tipo di scanalature dove vanno inserite queste mezze lune diciamo in modo tale che si possono vedete hanno anche un sistema tra virgolette a farfalla non so quale sia il termine tecnico in modo tale che si vadano a mettere nella canalina laterale del profilato hanno naturalmente la filettatura si bloccano in questo modo e poi si vanno ad utilizzare questi bulloni per fissarle vi faccio vedere ad esempio in questo angolo dall'altro lato già sono state fissate sistemare in questo modo stessa cosa facciamo qui perfetto adesso le abbiamo sistemate lì dobbiamo utilizzare questo qui ad angolo lo piazziamo qui come sempre il cacciavite è sempre ben utile perché ci possiamo naturalmente spingere dove ci serve ok dopodiché andiamo a fissare i due bulloncini ok perfetto tutto questo da ripetersi più o meno 600 volte ma giustamente anche questo è quello che dà la solidità a una postazione in profilati comunque timelapse va se no fammonotte quindi ebbene signori eccoci finalmente ci siamo finalmente siamo alla parte conclusiva dove vi mostro la postazione lo so chi ha seguito il tutto anche in live mi raccomando seguitemi sull'altro sito sa che in realtà le clip precedenti sono praticamente dell'anno scorso è passato quasi un anno dall'inizio di questo video dall'inizio della registrazione delle clip però nel mentre a parte questioni tempistiche poi stavo aspettando altri pezzi che pian piano sono andato ad aggiungere poi c'era sempre qualcosa ok prendo questo e poi lo faccio vedere poi prendo questo e poi lo faccio vedere adesso devono arrivare altre cose devono arrivare tanti altri upgrade molto ma molto interessanti quindi mi raccomando restate sintonizzati e soprattutto lasciate like se volete vederli se vi interessano e di conseguenza ho detto vabbè facciamolo adesso ormai è quasi un anno che la utilizzo fammo vedere sta postazione almeno ci aggiorniamo e poi man mano se può interessare posso fare altri episodi diciamo di approfondimento con i vari upgrade che faccio che andrò a fare di passo passo perché la cosa bella delle postazioni è che non si finisce mai vuoi sempre aggiungere qualcosa per migliorare la situazione iniziale e beh signori questa qui è la postazione come vedete postazione con il triplo schermo qui sto andando vi faccio vedere magari un replay di una gara con appunto la visuale a triplo schermo in assetto corsa competizione poi se vi può interessare se vi può garbare io vorrei cioè una cosa che voglio fare naturalmente quella di farvi vedere anche qualche gara fatta proprio in questo modo quindi mi devo attrezzare un pochino per le registrazioni e quant'altro come detto il lo stand è a triplo monitor anche se in realtà è a quattro monitor perché vedete lì sopra ce ne va un quarto che può essere utilizzato appunto quando si ha questa tipologia di visuale per tenere non lo so occhio la registrazione la chat e quant'altro io al momento ancora non ci ho fissato uno schermo perché ho uno schermo oddio ne ho diversi però ce ne voglio mettere uno visto che sarà solo per la chat magari per le live insomma uno schermo un po' barbone che ho degli schermi barboni ma non hanno un buon attacco vesa cioè non mi fido al momento ad attaccarli lì ma poi lo andrò sicuramente a sistemare qui ci sono le regolazioni per l'angolazione quindi al momento come vedete ci ho messo un faretto voi non fate caso a quelli che sono i cavi perché come detto è tutto work in progress soprattutto al momento visto che devo cambiare alcune cose quindi al momento vedete tanti cavi in giro oltre a fatto vabbè il microfono di quando registro la videocamera per le live eccetera eccetera questa qui appunto è la postazione con la parte diciamo dello schermo vi faccio vedere la parte degli schermi che è separata da quella che è la base la postazione principale quindi sostanzialmente tutto questo qui la parte del sedile e quant'altro hanno le rotelline ho preso come optional le rotelline per poterla spostare ma ho voluto comunque prendere lo stand extra tra virgolette per i monitor perché c'è anche la possibilità di poter avere un triplo stand che si collega a questi profilati in modo tale da avere il tutto che si muove in contemporanea ma io non volevo questo perché una cosa che consiglio è che comunque è sempre comoda siccome alcuni giochi hanno determinate impostazioni è possibile che per alcuni titoli sia necessario magari allontanare un pochino gli schermi avvicinarli e quant'altro quindi almeno asse orizzontale riuscite a farlo in modo molto veloce perché appunto con le rotelline spostate tutto un po' indietro o avanti e risolvete per l'asse verticale è un problema perché la cosa positiva di queste postazioni in profilato di alluminio è che hanno una stabilità spaventosa nel senso non trittigan se muove niente tutto fissato al meglio anche con i volanti direct drive e quant'altro non si muove assolutamente niente è una cosa positiva naturalmente per la stabilità ma se dovete fare un po' di settaggi beh certo dovete stare lì a svitare e risvitare parecchio vi aumento un po' la luminosità così nel mentre magari vi faccio vedere anche la parte dedicata alla pedaliera allora io magari in descrizione vi lascio il link di tutto perché so che mi chiederete quindi il CSL Elite già abbiamo visto l'unboxing con il Fanatec Formula V2 poi abbiamo la pedaliera sempre sempre CSL Elite poi come detto rimanete sintonizzati perché potrebbero esserci dei cambiamenti upgrade eccetera eccetera la postazione come potete notare è della track racer poi parleremo anche dell'esperienza con track racer perché come avete visto insomma non è andato proprio tutto tutto liscio il sedile è la versione rally avevo optato inizialmente per la versione gt ma non non era disponibile quindi ho fatto questa che in teoria doveva arrivare prima tutto molto in teoria per quanto riguarda le tempistiche con track racer è in alcantara misto similpelle molto comoda tra l'altro anche non so fino a che si riesce a vedere però le parti sono sfoderabili diciamo si possono togliere per magari pulirle e quant'altro qui cose che ho aggiunto anche nell'arco del tempo allora qui come vedete da questo lato abbiamo la parte dedicata alla tastiera questo qui appunto è un addon dove mettere la tastiera che si può spostare lateralmente e l'ho montato io in questo modo perché un'altra cosa che vi dico è per quanto riguarda questo tipo di postazioni molto spesso andando a seguire diciamo come devono essere montate non vi trovate benissimo nel senso la tastiera era montata in modo un po' diverso non inclinata non sarebbe arrivata questa inclinazione quindi io andando a lavorare su questi pernetti qui ho fatto in modo che arrivi diciamo in questo modo con un'angolazione sostanzialmente perfetta prima avevo il mouse lì poi ho preso uno stand per il mouse che è nettamente più comodo in modo tale da averlo nella parte destra quindi mouse e tastiera li uso normalmente qui abbiamo lo slot diciamo per il cambio e sotto un altro addon che presto verrà utilizzato è un altro slot per il cambio ma molto più grande una piastra molto più grande di quella superiore poi vedrò se togliere quella ottenerle tutte e due perché diciamo lo spazio c'è anche per tenerle tutte e due devo vedere adesso che andrò a piazzare altri addon vi faccio vedere anche per quanto riguarda le regolazioni come potete vedere le regolazioni sono tutte fattibili inclinazione profondità naturalmente come detto essendo molto stabile essendo molto avvitata se vogliamo dire dovete lavorare parecchio se volete fare dei cambiamenti però poi una volta che avete trovato il vostro setup rimane così fissa non si non si trittica non si muove ed è una cosa perfetta stessa cosa anche per quanto riguarda la pedaliera dove vedete è ben imbullonata su questa piastra che pesa una quintalata quindi gli dà tutta quella stabilità necessaria a non avere diciamo problemi quando si va ad accelerare anche frenare soprattutto in modo molto molto brusco anche con pedaliere diciamo che hanno una resistenza maggiore di questa sostanzialmente le postazioni in profilati di alluminio sono diciamo anche per attrezzatura professionale quindi diciamo sempre facendo le proporzioni che comunque sono le migliori perché ti danno quella stabilità che altre postazioni non ti darebbero quindi sostanzialmente entrando nell'abitacolo abbiamo questa visuale vabbè naturalmente adesso l'obiettivo non è che riesce a riprendere bene però abbiamo appunto lo schermo centrale e gli schermi laterali è una grandissima figata questa poi come detto vi farò diversi video a riguardo e nella parte superiore come detto ci andrà un altro monitor per controllare chat e quant'altro vi dicevo la parte della tastiera che appunto me la posso tenere qui vicino sia per andare a settare il tutto magari durante le partite in game o in altri giochi ad esempio euro track dove comunque la tastiera ti può servire per avere tasti più tasti diciamo utili e quindi con questa configurazione ho risolto diciamo il fatto di averla un po' troppo lontana nella configurazione basi che ti dicono da quest'altro lato come detto il cambio qui abbiamo il mouse la cosa anche del del montaggio vedete qui c'è una piccola fessurina perché qui ci ho perso veramente tanto tempo per quanto riguarda la cosa dei monitor con la bolla e quant'altro ma purtroppo più di questo non sono riuscito a fare quindi si nota adesso ho messo anche piuttosto scuro quindi in modo tale da far vedere lì dietro c'è la finestra quindi si vede quello che è lo spazietto da questo lato da quest'altro lato molto meno sono riuscito a metterlo più preciso poi ci sono i vari settaggi da fare per far sì che vedete lo specchietto non ha sbalzi tra virgolette quindi è una cosa da settare ci sono anche altri settaggi che si possono fare altre cose che andremo a vedere magari più avanti però come detto da questo punto di vista c'è c'è un po' da lavorarci cioè non è una cosa immediata tra virgolette cioè per postazioni del genere te le devi settare tu pian pianino in modo da configurartela al meglio in modo da riuscire a far non solo combaciare tutto ma semplicemente anche per quanto riguarda le regolazioni avere il tutto a portata di mano e di piede perché in fondo poi è proprio questo l'aspetto positivo di queste postazioni il fatto che avendo questi profilati tu puoi andare aggiungere anche tantissime cose che tra virgolette non sono previste ad esempio io adesso alcune cose le ho tolte perché ne dovevano arrivare altre quindi ho liberato un po' ma nel mentre ho fatto anche tante prove ho provato ad aggiungere anche delle altre camere attaccate direttamente alla postazione dei tablet per l'HUD anche lo smartphone per la dashboard eccetera eccetera quindi potete veramente lavorarci e personalizzarle al massimo diciamo di quella che è la vostra fantasia per poter fare qualunque altra cosa che vi possa garbare vi possa far immergere di più perché in fondo postazioni del genere cioè vi aiutano diciamo ad immergervi più nel gioco no non vi fanno andare più veloce non serve la postazione per andare più veloce serve il manico io non ce l'ho ma l'immersività è una cosa che diciamo per gli appassionati di motori è una è una figata cioè vedere il triplo schermo rispetto allo schermo singolo certo c'è il VR insomma ci sono tante c'è un mondo dietro che vi può comunque far vivere quello che è il sogno dai di tanti ragazzini quello di correre ma in modo molto più sicuro molto più economico effettivamente per quanto non sia economicissima ma rispetto a correre nella realtà lo è di molto e quindi vivere un piccolo sogno che magari abbiamo sin da bambini e continuare a personalizzarlo a migliorarlo passo passo nell'arco degli anni perché comunque insomma sono arrivato a questa postazione dopo dieci anni dal primo volante che ho acquistato e un'altra cosa che effettivamente mi piacerebbe condividere con voi ma condividere tra tutti anche in chat cosa ad esempio voi andreste ad aggiungere cosa vi piacerebbe vedere in questa postazione perché ci sono anche piccole accortezze che magari nell'arco del tempo ti accorgi di alcune cose ad esempio una stupidaggine che magari uno inizialmente non ci pensa anche il fatto di mettere dietro la postazione vi dico banalmente dei pannelli neri semplicemente per avere una continuità e non avere il contrasto magari semplicemente con il muro o con alcune fonte di luci io adesso vabbè ho acceso il faro per far vedere un pochino meglio però il fatto che si possano mettere magari dei pannelli dietro per rendere l'abitacolo un po' più abitacolo per dire c'è chi va comunque anche a lavorare sul sugli stessi profilati insomma le personalizzazioni sono tante quindi una cosa è anche quella di chiedere a voi cosa mi consigliate cosa vi piacerebbe vedere come upgrade per la postazione alcune cose già ce l'ho in mente altre cose già sono arrivate che devo ancora montare e ve le farò vedere nei prossimi video quindi come detto restate sintonizzati ma altre come detto potrebbero venire appunto da voi se mi date qualche idea potrebbe essere una cosa curiosa magari fare qualcosa insieme una cosa che voglio sicuramente aggiungere sono diciamo delle dashboard alcune magari farle direttamente io altre prenderle già fatte visto che ci sono molte aziende che comunque ne fanno e di fatte bene veniamo un po' alle conclusioni però come detto l'ho provata per parecchio tempo quindi vi posso dire anche quelle che sono state le mie impressioni lungo l'arco di questi mesi di utilizzo vi posso dire che la postazione è veramente ottima come detto le postazioni in profilati di alluminio sono diciamo postazioni di fascia alta fatte in modo eccellente per soprattutto darti quella stabilità che spesso in postazioni più piccoline non non si ha quindi stabilità il volante ha il suo feedback anche direct drive quello che è ma non si muove niente di tutta la postazione anzi essendo in profilato d'alluminio c'è anche la positività del fatto che essendo sostanzialmente quando li va a avvitare quasi un blocco completamente unico il feedback lo senti un po' ovunque quindi è qualcosa che va a crescere anche quello che è il feeling con il volante con la vibrazione del volante e quant'altro stabilità dei pedali cosa eccellente che non ho mai avuto magari nell'altra postazione era sempre un po' problematico per quanto abbia fatto il suo dovere come se non ci fossero domani e quindi da questo punto di vista la postazione è veramente eccellente quindi il prodotto è ottimo meno diciamo gli altri aspetti intorno nel senso sapete ve ne ho parlato durante le live durante le chiacchierate quando il periodo in cui l'avevo ordinata eccetera eccetera come detto è della track racer mi dispiace dirlo però onestamente io non mi sono trovato bene non con il prodotto ma con chi lo vende sostanzialmente nel senso che ho avuto parecchi problemi avete visto anche durante il montaggio i ritardi mi era stato assicurato che sarebbe arrivata in una settimana ma infatti ho cambiato alcune cose dell'ordine iniziale perché la volevo a breve la volevo a breve perché mi ero deciso allora mi sono deciso di cambiare postazione perché l'altra stava cedendo ma comunque io sono una di quelle persone che si decide molto alla lunga quindi quando mi sono deciso ho detto vabbè dai facciamolo prendiamolo perché se no passa un'altra settimana ci ripenso e non la non la compro più quindi ho detto va bene quella più a breve possibile con tutte le caratteristiche che volevo qualcosina ho cambiato come il sedile che volevo quello da GT invece c'era solo disponibile quello da rally eccetera eccetera e doveva arrivare in breve una settimana massimo dieci giorni in realtà non è stato così ci sono voluti due mesi ma questa cosa perché mi dava fastidio non tanto i tempi di attesa ma il fatto che se all'inizio mi fosse stato detto guarda non c'è devi aspettare tot tempo ok ti metti l'anima in pace sai il tempo che devi aspettare aspetti però dire che settimana prossima ce l'hai poi di settimana in settimana chiamavo per sapere perché magari c'è qualche problema eccetera eccetera e dico sta arrivando sta arrivando e niente sta arrivando sta arrivando e niente ci sono voluti due mesi quando è arrivato il tutto un pacco era doppio due non erano ancora arrivati chiamando detto no guarda che ti è arrivato tu ce li hai tu sono tutti non è vero quindi ho dovuto perdere tempo quindi mi dà l'idea di una leggerissima eufemismo disorganizzazione per quanto riguarda anche la anche il magazzino perché poi l'ho preso dal sito italiano ma altri upgrade li ho presi dal sito europeo dopo questa esperienza con quello italiano e sostanzialmente stessa cosa anche con quello europeo avevo preso alcune cose che sul sito erano disponibili pagando anche la spesa diciamo detto celere così arrivano subito visto che anche dall'Europa magari arrivano un po' prima per poi ricevere una mail dire no in realtà non è vero non ce li abbiamo ti aspetta un mese ma scusi ditemelo prima sul sito da disponibile io li vado a comprare e poi non sono disponibili questa cosa onestamente non ve la dico non mi piace per il semplice fatto che comunque non è che stia a comprare una penna da un euro ma la postazione l'ho pagata sostanzialmente 2000 euro tra parentesi questi 2000 euro 400 di spedizione una cosa totalmente assurda io non so per quale motivo ma 400 euro di spedizione è una cosa fuori dal mondo comunque a parte questo quelli l'ho scelto c'era quello c'era spedizione eccetera eccetera e quindi consapevolmente uno va a selezionare quindi ho detto 400 euro sono tanti però ho accettato ho accettato non ho accettato il fatto di aspettare tutto questo tempo senza diciamo esserne a conoscenza o meglio con ti dicono una cosa e poi in realtà non è vero quindi questa cosa onestamente non mi è piaciuta ve lo dico chiaramente perché la postazione è perfetta è eccellente è una postazione mi ci trovo da dio ma l'assistenza e tutto quello che c'è dietro onestamente pessima pessima non mi ci sono trovato per niente bene altra cosa che sulla quale avrei a che ridire sono le istruzioni nel senso sul sito inglese trovate tutte le istruzioni per ogni cosa quindi ve le dovete andare a ricercare perché quelle che vi mandano in teoria del vostro ordine una roba indicibile carta straccia quindi andate voi nel caso se prendete qualcosa andate a controllare sul sito prendete quelle esattamente per quello che avete preso voi perché quelle che mi avevano inviato a me per quanto riguarda in teoria questa postazione erano vecchie o comunque non combaciava insomma le istruzioni veramente fate voi sostanzialmente costruitevela da soli e quindi in sostanza c'è un pochino da tribolare l'ho detto anche alcuni ragazzi che poi in live abbiamo chiacchierato alcuni l'hanno comunque hanno preso queste postazioni mi hanno detto ok sapendo del fatto dell'attesa erano già più consapevoli perché quello è il fatto essere consapevoli perché c'era ad esempio un ragazzo che voleva prenderla io ho detto guarda pure se ti dicono che ti arriva tra due settimane lascia perdere ti arriva tra due tre mesi quello che è presa consapevolmente è arrivata effettivamente dopo mesi non dopo quello che gli era stato detto però in quel caso lo sai quindi per me va bene attendere però basta saperlo basta saperlo perché la serietà è anche questo è anche il fatto di dire guarda per fare una cosa del genere che ci sta il lavoro per carità non è come detto che ti sta a comprare una stupidaggine quindi è onesto anche comprendere il fatto che ci voglia del tempo ci vogliano delle settimane ci vogliano anche dei mesi per avere delle cose fatte bene ma me lo devi dire quello la serietà rientra in questo la professionalità e l'assistenza perché come detto ti sto dando anche una manicata di soldi quindi un minimo di professionalità ci vuole quindi basterebbe quello tutto uguale tutto il resto ma basterebbe dire le tempistiche effettivamente come stanno tu mi dici che ci vuole non una settimana non due ci vuole un mese dimmi due mesi così poi se mi arriva effettivamente un mese sono ancora più contento se mi dici che mi arriva tra una settimana e mi arriva tra tre mesi è normale che me incazzo perché come detto ho speso una manicata di soldi e il tutto va un po' ad incidere su quella che è l'esperienza di acquisto perché poi come detto la postazione è eccellente nulla da ridire detto questo ragazzuoli io direi che ci possiamo salutare qui con questo video dedicato alla postazione come detto abbiate pazienza se avete dovuto attendere un bel po' di tempo ma work in progress è tutto work in progress e ancora work in progress quindi arriveranno altri video non so se settimana prossima forse settimana prossima potrebbe arrivare qualche unboxing di qualcosa che poi andremo a vedere qui nella postazione spero che vi sia garbata mi raccomando seguitemi su instagram dove magari vi posterò qualche fotina più nel dettaglio e ragazzi come detto nei commenti consigliatemi cosa vi piacerebbe vedere sia lato hardware ma anche lato software nel senso qualche video magari col camera car direttamente da qui non registrato il gameplay quello volevo farvelo però devo anche lì settare un po' di cose ma quello già ve lo volevo fare quindi fatemi sapere se vi può garbare come te immaginatevi un eurotrack signori con la telecamera qua e è un altro passo e non solo eurotrack ma anche altri già ho fatto delle prove e poi anche lato hardware voi cosa avete messo nelle vostre postazioni cosa mi consigliate di mettere qui detto questo ragazzuoli ci vediamo alla prossima fatemi sapere se vi è garbata saluto a tutti da quel taleale